La mancanza di denti non è solo un problema estetico, ma anche funzionale, perché è il primo momento in cui noi assimiliamo il cibo che mangiamo e se non lo mastichiamo bene possiamo avere dei fenomeni di malassorbimento. Ma possiamo ovviare a questo, perché in base al fatto che siano presenti o meno denti in bocca possiamo utilizzare diverse soluzioni, tante soluzioni, che possono essere ponti fissi, quindi in metallo-celamica, in oro-celamica, in ceramica integrale, in zirconia, protesi mobili scheletrate, in resina oppure protesi totali quando mancano completamente i denti. Quindi non solo mettiamo a posto la nostra masticazione e quindi la possibilità di assimilare i cibi, ma anche l'estetica perché ricreiamo un sorriso ottimale. Grazie a tutti.